Quindi questo significa per noi che siamo nelle istituzioni sobrietà, sobrietà nel modo di svolgere il ruolo, sobrietà nella spesa, significa anche cosa che abbiamo fatto, fare cose magari difficili come la riforma delle retribuzioni dei dipendenti della Camera, toccando anche il maturato, significa prendere decisioni pesanti rispetto a altri assetti di spesa, quindi fare dei tagli come abbiamo fatto, dei risparmi per 138 milioni di euro, significa prendersi la responsabilità di dare segnali chiari che all'esterno dicano qualcosa.